mi trovo alla casa dei carraresi a treviso in compagnia dell'artista lorena totolo benvenuta lorena tu non sei nuova con gli eventi per quanto riguarda gli eventi con la den veni star gallery hai già partecipato ad altre collettive questa volta però finalmente riesco a presentarti al al pubblico ti ho ti ho con me e sono un proprio molto contenta di questo lorena ci presenta per art ambassador l'opera dal titolo laila laila è un nome che viene dato all'ebraico e significa spirito della notte ok so anche che però l'aila o lilith è la donna che contende il primato ad eva per essere appunto la prima donna sul del creato è così ecco a te lascerei in assoluto perché moglie di adamo e poi ci racconterai la storia le vicissitudini di questa donna molto molto contemporanea allora appunto lascio a te il compito di spiegare un po tutti i simboli che tu hai inserito in questo tuo in questa tua tela e poi soprattutto come tu sei riuscita a dare un riscatto a questa figura che da demone femminile diciamo così passa ad essere un un'icona del di libertà assolutamente sì l'emancipazione femminile ecco quindi niente abbiamo l'aila infatti viene con l'arca finale per la precisione viene rappresentata in questo quadro con uno sfondo scuro come fosse un cielo e in maniera molto meno realistica diciamo rispetto alla figura un po più pop giusto per creare questo contrasto essendo uno spirito della notte abbiamo lo sfondo nero con le stelle e per quanto riguarda gli altri simboli generalmente viene rappresentata con la civetta anche con serpenti o civetta le mani a forma di artiglio le zampe a forma di artiglio scusate in questo caso ho voluto inserire solamente la la civetta i capelli rossi molto lunghi che io qua li ho fatti i raccolti le corna perché comunque viene demoniaca sì ho voluto mettere solo un piccolo ma spieghiamo come mai era vista diciamo in maniera negativa perché era la donna che aveva usato ribellarsi ad adamo quindi al volere del marito esatto lei pretendeva gli stessi diritti in pratica del marito esattamente esattamente che questo non gli è stato dato è stata cacciata nominato il nome di nevano è stata cacciata dal paradiso e si è rifugiata nel mar rosso il mito racconta la storia esattamente è però una guerriera e per quello c'è la giacca da militare in questo caso e poi lo smile è un po per prendere diciamo un po ironizzare no su questa leggenda ecco ok e generalmente boh che altro dire che io quando dipingo cerco di mettere tutte le emozioni che 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 senti quel momento ma soprattutto siccome tu eri presente scusa se ti interrompo anche l'anno scorso sempre qui a treviso per fa marte le tue opere hanno sempre un grandissimo messaggio ecco l'anno scorso ci avevi presentato ofelia quest'anno laila e ripeto sono onorata di di presentarti perché appunto questa tela qui propone un messaggio attualissimo abbiamo sentito anche dalla cronaca quanto si è discusso sulla società patriarcale è ora di riscoprire laila ma la laila di di lorena tottolo grazie lorena grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi